Musica Convalidato l'arresto dell'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha ucciso l'ambulante nigeriano a Civita Nova Marche per il giudice, l'uomo è pericoloso e violento, giovani con la droga, ubriachi alla guida e destinatari di ordini di carcerazione e servizi di controllo a largo raggio della compagnia Carbinieri di Fano Peste suina e danni alle coltivazioni, la regione mette in campo le nuove misure per far fronte all'emergenza cinghiali ampliato il periodo di caccia e abbattimento permesso anche ai proprietari e ai conduttori dei terreni Dal 3 al 7 agosto Mario Mariani alza al sipario naturale del Teatro Libero del Monte Nerone con certi spettacoli e sorprese con personaggi artisti che si esibiranno con il celebre pianista Al via da domani le prevendite di In Gir per Fan la passeggiata degustativa che torna giovedì 11 agosto nelle vie del centro storico di Fano Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia apriamo subito il nostro telegiornale con il vasto incendio divampato nel pomeriggio sulle colline di Monteporzio in zona Pietrone le fiamme che hanno lambito un'abitazione hanno coinvolto stoppie e sterpaglie stanno ancora proseguendo le operazioni dei vigili del fuoco sul posto le squadre di Fano e Senigallia Allora vediamo alcuni video girati da Mauro Zandri e i nostri reporteri di strada Siamo sopra il Pietrone, sta prendendo fuoco, guardatela sta prendendo fuoco la zona verde di fianco al Pietrone, mamma mia sta pigliando fuoco la zona e questa mattina il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Filippo Ferlazzo l'operaio di 32 anni che ha pestato a morte l'ambulante nigeriano a meno di 24 ore dall'omicidio c'è stata un'altra aggressione sempre lungo corso Umberto I Ha collaborato, ha chiesto scusa e ha chiarito che non c'è stata alcuna motivazione di tipo razziale lo ha riferito l'avvocato Roberta Bizzarri la legale di difesa di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo l'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha ucciso in pieno giorno a mani nude Alika Ogorciuku, il 39enne di origini nigeriane in Italia da rumai 16 anni La sua colpa sarebbe quella di aver insistito nel chiedere l'elemosina il video dell'aggressione realizzato da una ragazza moldava ha suscitato sgomento in tutta Italia e alimentato il dibattito politico lasciando tante persone col dubbio che forse qualcuno poteva fermarlo ora il 32enne è accusato di omicidio volontario e rapina questa mattina il GIP di macerata Claudio Bonifazzi ha stabilito che Ferlazzo dovrà rimanere in carcere nell'ordinanza il giudice fa riferimento all'arrestato come un soggetto violento e con elevata pericolosità sociale oltre che alla presenza di evidenti gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione del reato all'uomo nato in Austria ma residente a Salerno era stato diagnosticato un disturbo bipolare che dovrà essere approfondito infatti era stato più volte sottoposto ai trattamenti sanitari obbligatori e per questo il tribunale di Salerno aveva nominato sua madre Ursula amministratrice di sostegno intanto il sindaco Fabrizio Ciarapica si auspica che venga fatta giustizia quanto prima per la famiglia di Alica e per l'intera città il primo cittadino dopo aver abbracciato la moglie della vittima le ha promesso che non sarebbe rimasta sola così ieri mattina ha riunito la giunta insieme a tutti i dirigenti al segretario comunale per confermare gli impegni presi per prima cosa è stato istituito un fondo di 15.000 euro a sostegno della famiglia per consentirle di gestire nell'immediato sostentamento le spese per il funerale inoltre ci sarà una collaborazione con il comune di San Severino la loro città di residenza affinché possa essere garantito un aiuto prolungato nel tempo sarà aperto un conto corrente dedicato dove chiunque potrà inviare le proprie offerte ci costitueremo parte civile contro l'aggressione ha poi annunciato Cerapica tutela dell'immagine e dei valori di Civitanova ha detto che è sempre stata una città civile accogliente, generosa, pacifica e solidale e che è addolorata per una vicenda estranea a suo carattere e alla sua anima purtroppo però a sole poche ore di distanza dal delitto sempre in lungo corso Umberto I c'è stata un'altra violenta lite ripresa da un cellulare la collutazione si è consumata davanti a un bar dal quale sono usciti due giovani che hanno messo a riparo tavoli e sedie mentre i due uomini continuavano a picchiarsi improvvisamente è apparso anche un terzo uomo che per pochi secondi ha aggredito uno dei due coinvolti nel parapiglia e poi si è allontanato in questa circostanza non ci sono state vittime ma le chiazze di sangue a terra dimostrano la violenza dell'aggressione e continua a sconvolgere l'indifferenza altrui infatti anche in questo caso nessuno è intervenuto per sedare la lite nei giorni scorsi in uno stabilimento balneare a Falconara Marittima una donna è stata aggredita a scopo di rapina da due ventenni del posto già aggravati da precedenti di polizia sin dalla giovanità ad intervenire la divisione anticrimine che ha deciso di attuare il DASPO Willy il quale prevede il divieto di accesso della durata di due anni da tutti i pubblici esercizi dai locali di pubblico intrattenimento dell'intera provincia anconetana al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini è stata una giornata di duro lavoro quella di domenica per i pompieri il soccorso alpino e speleologico delle Marche impegnati in diversi interventi il primo e il più complicato nel sentiero Goss delle Cesane nel comune di Fossombrone durante una discesa una ciclista di 39 anni di fratte rosa ha perso il controllo della sua mountain bike ed è rovinato a terra ribaltandosi più volte e perdendo conoscenza l'allarme è stato lanciato dal fratello che era insieme a lui soccorso dai vigili del fuoco di Urbino e stabilizzato dall'equipaggio del 118 l'uomo è stato messo in sicurezza sulla barella e essato con il vericello nell'eliambulanza il recupero però è stato reso difficoltoso dalla fitta vegetazione per la sospetta gravità della lesione il paziente è stato trasportato al trauma center di Ancona alle 12.45 invece è stata attivata la stazione di Montefortino a seguito della richiesta di aiuto di una coppia di escursionisti pugliesi che si era persa in un sentiero che porta al Monte Priora gli operatori hanno raggiunto i due riconducendoli all'auto contestualmente è arrivata una richiesta di soccorso alla stazione di Ascoli Piceno per un trauma alla caviglia subito da una donna caduta nel sentiero che da Colle San Marco conduce alla località Le Cave raggiunta in poco tempo l'infortunata è stata stabilizzata e caricata su mezzo dei vigili del fuoco per poi trasportarla alla vicina ambulanza l'ultimo intervento è avvenuto in località Camartina per un ciclista caduto rovinosamente dalla sua mountain bike con conseguente trauma alla spalla al giovane sono state fornite le prime cure da una squadra della stazione di Ascoli Piceno ed è stato ricondotto con il fuoristrada al punto di consegna di Borgo di Arquata dove ad attenderlo c'era un'ambulanza che ha trasferito il paziente all'ospedale per accertamenti e adesso passiamo alle operazioni portate a termine dai carabinieri durante i controlli delle scorse settimane otto ragazzi sono stati segnalati come consumatori di droga grande sforzo profuso in questo periodo dai militari della compagnia carabinieri di Fano anche mediante servizi straordinari di controllo del territorio organizzati in ambito provinciale ed eseguiti con l'ausilio del nucleo cinofili di Pesaro l'obiettivo è quello di contrastare i reati predatori lo spaccio di sostanze stupefacenti e le condotte di guida maggiormente pericolose con un'attenzione particolare ai luoghi interessati dalla movida giovanile i carabinieri della stazione di terre roverische hanno rintracciato due persone del posto entrambi destinatari di un ordine di carcerazione per furto e detenzioni di stupefacenti commessi nel centro urbano un uomo è stato portato nel carcere di Pesaro e l'altro nel proprio domicilio in regime di arresti domiciliari inoltre i militari hanno sequestrato un'auto condotta da una donna priva di patente perché mai conseguita combinandole la sanzione di 5.100 euro invece i carabinieri delle stazioni di Fano, Marotta e San Lorenzo in campo hanno segnalato alla prefettura otto giovanissimi tra i 16 e i 26 anni per uso personale di droga i ragazzi che si trovavano in prossimità di locali notturni e altri luoghi di aggregazione sono stati trovati in possesso di singole dosi di hashish sempre i carabinieri della stazione di Marotta hanno riterato una patente di guida ad un giovane risultato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua autovettura infine i militari di Colli al Metauro hanno rintracciato un uomo del posto condannato agli arresti domiciliari che deve scontare la pena di un anno e due mesi per i reati di danneggiamento seguito da un incendio e atti persecutori i controlli verranno intensificati anche nel mese di agosto in concomitanza con l'arrivo di numerosi turisti nelle principali località di villeggiatura della provincia Ancora cronaca nella serata di ieri i vigili del fuoco di fermo con l'ausilio di un'autoscala del comando di Macerata sono intervenuti nel centro storico di Montappone per il crollo parziale del tetto della chiesa sconsacrata detta la confraternita la copertura è implosa finendo all'interno dell'immobile ma alcuni coppi sulla sommità dei muri perimetrali hanno subito uno scivolamento minacciando di cadere sulla sede stradale messa in sicurezza all'area interessata i pompieri hanno recuperato i beni depositati in una stanza vicina al fabbricato Invece questa mattina i pompieri e la polizia locale sono intervenuti in via Vittorio Veneto a Cerasa nel comune di San Costanzo dove una donna residente a Lucrezia di Cartoceto ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava dopo aver abbattuto un palo della pubblica illuminazione il mezzo è finito sul marciapiede contro il muro di un'abitazione per fortuna pare che la conducente ne sia uscita illesa Cambiamo argomento la regione ha approvato un piano per far fronte all'emergenza cinghiale l'obiettivo è quello di contrastare danni alle coltivazioni gli incidenti stradali e l'erosione del suolo preoccupa anche la peste suina L'invasione dei cinghiali è diventata un'emergenza nazionale che richiede provvedimenti straordinari per questo la Giunta delle Marche ha approvato il piano regionale di interventi urgenti con nuove misure finalizzate a contenere gli impatti negativi causati dall'eccessiva presenza di ungulati tra gli obiettivi l'incremento annuo del 50% degli abbattimenti potranno intervenire anche i proprietari e i conduttori di fondi in possesso di una licenza di caccia Dunque Assessore c'è un pericolo reale? È un grande problema dovuto principalmente al rischio di contagio da parte degli ungulati della peste suina africana che si sta trasmettendo anche agli allevamenti di suini e quindi è un'emergenza da punto di vista zootecnico ma è anche un problema di sicurezza sulle strade è un problema di incidenti che si ripetono continuamente ma anche non per ultimo è un danno reale all'agricoltura Oggi i gruppi di cinghiali che entrano in un campo distruggono il lavoro di un anno e quindi la Regione è costretta a pagare con i soldi dei cittadini questi danni Di fronte a questo l'approccio non è quello di uccidiamoli tutti né di far divertire i cacciatori Qui si tratta di affrontare la cosa dal punto di vista tecnico con l'approccio scientifico che deve avere e quindi abbiamo fatto un protocollo d'intesa per la cattura con le gabbie lo scorso anno anche con lo sostegno della Polizia Provinciale dei Carabinieri Forestalli, del Lanci e quindi dei sindaci che hanno uno strumento di cattura nelle aree urbane e periurbane Poi invece nelle aree agricole e agrosilvopastorali abbiamo dato la possibilità con questo piano che è uno dei primi approvati in Italia peraltro col parere favorito dell'ISPRA permette intanto un abbattimento di grandi numeri quindi parliamo di 23.000 capi per il 2023 abbiamo permesso la braccata che è una caccia richiesta ed è quella che più di tutte riesce a dare un impatto sui numeri per il controllo all'interno delle aree delle foreste demaniali e regionali e poi l'utilizzo dei caccia selettori di qualunque abilitazione all'interno delle aree che possono essere autorizzate quindi oltre a questo si aggiunge il fascicolo agricolo e l'autodifesa che possono fare gli agricoltori tutte le ore del giorno proprio per difesa dei fondi e quindi su questo è necessario per poter rendere effettive queste mie parole e questa delibera della giunta regionale è necessaria la collaborazione delle ATC è necessaria la collaborazione dei cacciatori perché poi in ultima analisi sono loro che devono essere protagonisti della polizia provinciale e di tutto il sistema e la filiera istituzionale perché questo regolamento si renderà efficace e darà risultati se tutti quanti faranno la loro parte in questa operazione domani martedì 2 agosto a Santuario del Beato Sante di Monbaroccio verrà celebrato il perdono di Assisi un'indulgenza plenaria promulgata da San Francesco che può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte di domani e tutti i giorni dell'anno visitando la basilica della Porziuncola di Assisi dove morì il santo la celebrazione organizzata dall'ordine francescano secolare del Beato Sante inizierà alle ore 18 con la Santa Messa e terminerà alle 21 con la proiezione del film Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli un momento di preghiera e di condivisione aperto a chiunque voglia partecipare Torniamo a Fano perché domani inizieranno le prevendite per la passeggiata degustativa in giro per FAN allora sentiamo le prime anticipazioni nell'intervista che abbiamo realizzato a Gino Bartolucci Riparte in giro per FAN innanzitutto quando si svolgerà l'evento? L'evento sarà la data di giovedì 11 agosto perché giovedì 11 agosto che è un infrasettimanale dopo due anni di fermo naturalmente Covid naturalmente abbiamo provato a metterlo a metà settimana perché il sabato e la domenica ci sono tanti eventi quest'anno avremo il carnevale, la festa della birra perciò abbiamo pensato che in giro per FAN potrebbe andare anche il giovedì perché l'esperienza ci ha insegnato che poi anche il giovedì abbiamo avuto tanta partecipazione E sarà già possibile acquistare i biglietti? Sì, da domani, da domani, proprio oggi abbiamo ritirato siamo un po' in ritardo questo Covid ci ha messo in condizioni un po' sempre di correre contro i tempi da domani nella città, in vari punti delle città al mare Bagni Sergio all'ufficio del turismo via Battisti in piazza e alla sede della Proloco alla cooperativa Tre Ponti da domani, sperando che tanta gente tanti fanesi e non fanesi noi puntiamo in particolar modo sul turista perché ci auguriamo che i locali, i alberghi, i campi, i campeggi diano voce a questa manifestazione che praticamente noi come Proloco che siamo gli ideatori e organizzatori naturalmente speriando che anche il turista possa vedere la nostra bella città apprezzare i punti storici della città con abbinato qualcosa da mangiarsi e da bere in particolar modo con sei cantine col bianchello, il nostro bianchello del Metauro sei cantine del territorio che porteranno i loro prodotti Quale sarà il costo del biglietto? Il costo del biglietto ci sarà un piccolo aumento perché come sapete aumenta tutto il vino naturalmente che poi abbiamo un prezzo convenzionato però aumenta la cartaria la cartaria dovete pensare che oggi il decuntabile praticamente ha un costo naturalmente perciò abbiamo dovuto portarlo da 20 euro che era il 2019 a 22 euro perciò abbiamo dovuto fare un piccolo aumento per coprire i costi perché è aumentato la carne aumenta tutto naturalmente tutti i prodotti aumentano e in qualche modo abbiamo dovuto aumentare anche noi tanto piccolo così sono 16 comuni marchigiani tra cui Fano, Pesaro, Corinaldo, Ancone e Iesi che avendo fatto misurare il proprio livello di ciclabilità hanno ricevuto utili indicazioni per migliorare la sicurezza stradale e la vivibilità complessiva dei territori nel corso di una cerimonia che si è svolta il 29 luglio a Dancona sindaci, assessori o consiglieri presenti sono state consegnate le bandiere gialle della FIAB la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta prenderà il via a mercoledì 3 agosto la non edizione del teatro Libro del Monte Nerone che si svolgerà alla Pinetta di Fosto nel comune di Cagli si tratta di una 5 giorni ideata da Mario Mariani tra musica, arte, conversazioni ma anche letture e spettacoli il festival si svolge come consueto la prima settimana di agosto e quest'anno sarà dal 3 al 7 agosto il 3 debuteremo con Michele Giovagnoli Michele è un caro amico già invitato in altre edizioni del festival è un alchimista selvatico come si definisce un ricercatore spirituale che negli ultimi due anni ha riempito le piazze di tutta Italia col suo messaggio di amore di pensiero libero e di consapevolezza seguirà poi un'installazione di Alessandro Giampaoli pittore e fotografo e poi ci sarà la presentazione del mio sesto album che si chiama Nocturnalea registrato in sessione notturna proprio al teatro Libro del Monte Nerone e con tra l'altro anche fotografie e immagini dello stesso Alessandro Giampaoli è una sorta di canalizzazione musicale che presenterò con un album che uscirà in tiratura limitata circa 100 copie appunto in questo festival il giorno dopo il 4 agosto ci sarà invece la consueta serata poetica con un omaggio doveroso a Pierpaolo Pasolini ci saranno quindi Stefano Sanchini Loris Ferri Loris Falconi Pictor e Francesco Ameris che è un musicista che è un vocalist sperimentatore e con il sottoscritto che terrà diciamo con il suo pianoforte come collante musicale tutta questa giornata venerdì sarà una giornata altrettanto particolare in quanto faremo un gemellaggio con un altro festival che ha debutato recentemente a maggio è Alezzaya Alezzaya Festival a Urbino all'inizio di maggio un festival molto interessante di filosofia arti musica sperimentali che prenderemo in blocco e ospiteremo in una giornata intera tra l'altro ecco come dicevo prima ci saranno dei duetti per la prima volta inediti tra cui quello che farò con il musicista e il ricercatore elettronico Petrolio oltre al nutrito cartellone che vedrete consultando anche la nostra pagina Facebook sabato sarà la giornata più intensa con un debutto di un trio i Chakra Kachara un nome molto particolare un nuovo progetto con pianoforte sitar e violino e ci sarà lo sleeping concert che mentre il pubblico dorme in tenda o di sacco a pelo o contempla le stelle quindi sarà una musica di accompagnamento che durerà circa 4-5 ore fino all'alba in cui ci sarà il consueto anche quello concerto all'alba andremo a finire il giorno dopo che sfocerà nell'ultima giornata che è una giornata in collaborazione con Cittadini Liberi Pesaro con Liberi Insieme ci saranno anche in questo caso di workshop ci sarà Andrea Bizzocchi Davide Rossi che presenterà il suo ultimo disco quindi insomma saranno 5 giorni dal 3 al 7 agosto molto molto pieni e molto nutriti ed ora una breve di sport con la vittoria di Viola Luciani i 12 anni di Castelfidardo che a Porto Recanati ha conquistato la medaglia d'oro nella sfida della Battle durante la Coppa del Mondo di pattinaggio in line freestyle Viola che era la più giovane atleta azzurra in gara si è posizionata davanti a Polonia e Romania quarta l'altra marchigiana Rebecca Pirani e vi ricordiamo che tra poco alle ore 21 verrà inaugurata la Darsena Borghese a Fano dopo i lavori di riqualificazione l'intervento costato più di 400 mila euro ha riguardato il restauro l'illuminazione scenografica e la creazione di una passeggiata romantica per l'occasione l'amministrazione comunale ha organizzato uno spettacolo dal titolo Molecole Show un evento dal grande impatto visivo che unisce coreografia e scenografia e ci saremo anche noi con le nostre telecamere invece per chi rimarrà sintonizzato sul canale 19 potrà vedere uno speciale dedicato ai centri e stivi jump grazie per averci seguito e arrivederci a domani